Salve, sono D'Hunter e questo è il mio primo vlog. E' una prova di un vlog, perché non ho mai fatto un vlog e non so nemmeno se sono in grado. Non so se possa risultare qualcosa di interessante, se possa risultare qualcosa di costante e soprattutto è un vlog in cui non ho intenzione di farmi vedere per il momento, non per qualcosa ma perché lo trovo un po' inappropriato. Non mi sento a mio agio in camera, non ho una buona webcam, boh magari in futuro non saprei. Ho pensato di fare un vlog giusto per approfittare dell'occasione e parlarvi di cose generiche, cose di vario tipo della mia vita, Beh, non private, però cose che ho fatto, opinioni su cose. E essendo la mia prima passione ai videogiochi è probabile che questo vlog tratterà di videogiochi in maggior parte. Comunque, gli argomenti di oggi. Vediamo. Ho preso appunti durante la settimana riguardo le cose che potevo trovare più interessanti di cui parlare. E il primo argomento per il momento direi che è Dungeon Defenders, per il quale è stato rilasciato un nuovo DLC chiamato The Tinkerer's Lab Mission Pack. E' un DLC che non so a quanto verrà venduto, ma per il momento è gratuito. E'... diciamo funziona così spesso nei DLC di Dungeon Defenders, quando li rilasciano li mettono gratuiti, in maniera che chi ha già il gioco ne può approfittare per accaparrarselo subito, e chi invece non ce l'ha la prende nel culo perché poi quando lo comprerà, se lo comprerà nel caso volesse recuperare questo DLC dovrà pagarlo in un pack o separato. In ogni caso vi linko la pagina Steam di questo DLC, ci cliccate, fate installa gioco e a quel punto verrà aggiunto automaticamente nella vostra libreria permanentemente, sarebbe come se aveste fatto un acquisto. Però chiaramente credo sia essenziale avere il gioco base, ossia Dungeon Defenders, ma essendo stato in diversi bundle, essendo stato scontato molte volte, onestamente penso che ce l'abbiate un po' tutti. L'altro argomento di cui vi posso parlare è il Dottor Wu, Dottor Wu, anzi, che su suggerimento di un mio amico, più di uno in realtà, in particolare uno, diciamo, mi ha, sono sempre stato incuriosito, Dottor Wu, va, ero scettico, è un telefilm comunque, Dottor Wu è un telefilm, è probabilmente il telefilm più antico esistente, perché è una serie che è iniziata qualcosa come negli anni 60-70 e ancora va avanti, chiaramente non con gli stessi personaggi e non con gli stessi attori, però continua con storie differenti, però sempre nella stessa tematica. Comunque è un telefilm di fantascienza inglese, quindi è pieno zeppo di humor inglese, perché comunque è fantascienza, ma è una fantascienza un po' comica. Le mie impressioni sulla prima manciata di episodi che ho visto è che è molto simpatico, soprattutto il Dottore come personaggio è veramente simpatico, tende a trattare in maniera piuttosto leggera argomenti di proporzioni cosmiche, quali la fine del mondo, o che ne so, attacchi alieni, viaggi nel tempo, tratta di un po' tutto, però in maniera appunto leggera. Non lo so, non mi ha preso particolarmente, proprio perché è una sorta di intrattenimento molto fine a se stesso, se vogliamo, però è simpatico, comunque particolare. Può intrattenere, non so se la continuerò. È una serie un po' strana, un bel po' strana. Comunque la stranezza, almeno se va a tirare il fatto che sia strano, guardatelo, perché la stranezza non manca. Gli effetti speciali sono un po' così, diciamo che io sono dell'idea che un telefilm vada fatto poco ambizioso in termini di effetti speciali, perché il budget che hai per un telefilm è quello che è. In Dottor V comunque c'è dell'impegno, però abbiamo anche quei cosi... Avete presente, che ne so, Star Trek? Il rappresentare alieni semplicemente prendendo una persona, dandogli un costume strano e pittandogli la faccia di un colore strano? Ecco, questa rappresentazione scrausa degli alieni è una cosa un po' ridicola di questi tempi. Oltre a questo abbiamo i classici tizi dentro i costumi che fanno un bel po' retro. Non so se sia una cosa voluta, perché comunque nel mezzo, oltre a tutto questo, ci sono anche effetti in computer grafica. Ho visto ad esempio una scena di un mostro quando questo mostro è vicino alle persone che li attacca e un tizio in costume, quando lo devono far vedere che corre, è chiaramente realizzato in computer grafica. Comunque non fa schifo, però insomma, secondo me, proprio perché è un telefilm, non si devono mettere a fare queste cose, perché non puoi farlo bene. Non puoi fare bene un telefilm trattando queste cose. Secondo me un telefilm deve essere basato su altri aspetti che ti possono prendere, che non ti fanno guardare il budget, che sono appunto o una trama molto seria e molto sviluppata, senza che vada nel soprannaturale o che ci va senza richiedere effetti speciali, oppure una cosa molto più comica. Non so, migliori in mente Scrubs, che è riuscitissimo, non aveva bisogno di più budget, perché non ha bisogno di effetti speciali, non ha bisogno di niente, è semplicemente basato sulla simpatia dei personaggi, sulle situazioni. o anche Six Feet Under, che è fatto da Dio, perché ha dei personaggi molto belli, e sotto il punto di vista registico e tutto, e ha livelli eccezionali. Comunque basta, era giusto per dire che ho visto Dr. V e cosa ne pensavo. Torniamo in argomento videogiochi, parlando di Really Big Sky. Non so se lo conoscete, è un gioco indie, uno sparatutto a scorrimento orizzontale con Astronavina, genere che personalmente non mi fa impazzire, ma ogni tanto, posso pure giocarci. Ci ho giocato perché ci hanno introdotto le carte Steam, le carte scambiabili di Steam, se non sapete cosa sono, informatevi, link. Niente, dal momento che ce l'avevo, ce l'avevo già, l'avevo preso in un indie royale, non ho mai, mi pare, mi pare indie royale. Comunque non l'ho mai provato, ho detto, vabbè, visto che c'è le carte, giochiamoci un po'. Sblocchiamo le carte, e queste carte poi le scambi, le vendi, quindi tanto di guadagnato, approfittiamo dell'occasione. E' buono, è un gioco che non mi è piaciuto particolarmente, già io non sono un fan del genere, poi per il resto è molto randomizzato, non ha la classica fai il livello, finisci il livello, batti il boss, se tu scegli la modalità, ci sono vari tipi di modalità che offrono diverse variabili, che ne so, quella in cui non puoi sparare, puoi solo schivare, quella in cui incontri solo boss, quella classica, quella retro, comunque è sempre randomizzato, non ha una fine, si basa sul fare il più punti possibile, la finibilità, se vogliamo, è basata sullo sbloccare tutte le modalità, e prendere tutti gli, ma non so se siano definibili achievement, comunque ho visto tipo delle medagliette, che si vanno accumulando, man mano che tu fai cose, oltretutto, quando tu prendi determinati, cosi sbrilluccicosi nel gioco, poi, alla partita successiva, li puoi spendere, per potenziare permanentemente, la tua namicella, e questo è tutto, onestamente, non l'ho trovato, non mi ha preso particolarmente, come gameplay, perché l'ho trovato, sì simpatico, perché puoi anche, cioè devi trasformarti in una trivella, per trapassare i pianeti, quando ne arrivano, però, un po' perché è semplice, un po' perché è molto, molto confusionale, a livello visivo, proprio succede un macello, ci sono dei momenti in cui non ho capito niente, complici anche i rallentamenti, che è strano che un gioco così scatti, perché non dico che ho un super computer, però ho un computer abbastanza decente, voglio dire, poi chiaro, avrei potuto abbassare i dettagli, ma non ce l'ho nemmeno provato, questo lo concedo, mea culpa, però, insomma, anche questa storia non me l'ha fatto godere appieno, però non me ne fregava più di tanto, alla fine non è il mio genere. E niente, Rally Big Sky, carino sicuramente per gli appassionati, ma non lo consiglierei in assoluto, proprio neanche alla lontana. Infine, concludiamo parlando dell'ultimo Humble Bundle, è l'Humble Indie Bundle, no, aspettate, The Humble Bundle with Android 6, è il sesto Humble Bundle per Android, with Android adesso chiamato, vi lascio un link all'articolo che ho scritto, dove parlo di esso, e niente, ha iniziato giusto ieri, io questo video lo pubblicherò domani, giovedì, oggi è mercoledì 19 giugno 2013, e insomma, vi consiglio caldamente di andare a fare un'offerta, soprattutto se vi mancano, se vi mancano un paio di giochi di questi, insomma, tipo, c'è Aquaria, che è un gioco molto, molto valido, uno dei primi Indie di successo, è abbastanza apprezzato, poi c'è Frozen Synapse, che è un gioco, uno strategico attorno ai simultanei, molto particolare, ormai è vecchiotto, però è un buon modo per ottenerselo a prezzo basso, e non lo consiglio a tutti, ma è particolare, e secondo me, merita almeno di essere provata la demo, perché una volta ho fatto il tutorial, voi avrete perfettamente chiaro come si gioca, e se vi può attirare o no il gameplay, comunque è un gioco, da fare in multiplayer principalmente, perché è basato sulla predizione, e il predire le possibili reazioni di un'intelligenza artificiale, non è come il predire quelle di un essere umano, e nulla, io ci gioco parecchio, avrete visto parecchi video di questo gioco sul mio canale, devo ammettere che non è tipo un tra i miei giochi preferiti in assoluto, però prende un bel modo, ed è molto gestibile, perché puoi dare un turno adesso, poi stacchi, magari per tre giorni non ci giochi più, quando il tuo avversario ha dato il suo turno, ti arriva un'email, tu rientri, guardi l'esito dei turni, perché i turni sono simultanei, tu dai il turno, poi aspetti l'avversario, poi si guarda l'esito, e a quel punto dai il tuo turno, e si va avanti così fino alla fine della partita, ed è molto carino, poi c'è anche una funzione che permette di esportare facilmente, cioè in maniera del tutto automatica, i resoconti delle partite, e metterli su YouTube, quindi, per questa ragione, troverete molti video di Frozen Synapse sul mio canale, non perché, oh mio dio, sono strafigo, devo far vedere a tutti, quanto sono bravo, no, ma semplicemente perché, perché è semplice, perché, comunque sono bravino, ho più vittorie che sconfitte, mi sento bravino, e io generalmente in questo genere di giochi, sono veramente negato, io ho quegli strategici proprio zero, per il resto, l'altro gioco, il gioco che vi consiglio di più in assoluto, di tutto il bundle, è Broken Sword Director's Cut, Broken Sword però, come dire, tutti i Broken Sword, i primi due, tre, sono stati diversi bundle, già, sono stati scontati, non costano tanto, quindi prendere questo Humble Bundle solo per Broken Sword, no, oltretutto Broken Sword è uno dei giochi che richiede di fare, di offrire più della media, in ogni caso, Broken Sword è un classico, è una delle migliori avventure grafiche mai fatte, a mia modesta opinione, io ne ho giocate tante, ne ho giocate di recenti, ne ho giocate di antiche, perché è il mio genere preferito, e Broken Sword, nonostante io l'abbia giocato, sto parlando del primo, nonostante l'abbia giocato relativamente recente, è stato un paio di anni fa, l'ho trovato veramente, veramente riuscito sotto tutti gli aspetti, per me è una sorta di controparte serie di Monkey Island, perché Monkey Island, è della stessa epoca, è riuscitissimo, ma punta su una trama, ironica, barra demenziale, mentre Broken Sword, tratta argomenti più seri, ed è stato anche il primo gioco, se non sbaglio, a trattare l'argomento dei Templari, che ora va tanto di moda, grazie a una certa saga, che risponde al nome di Assassin's Creed, per descrizioni dettagliate, più dettagliate dei vari giochi, vi invito a cliccare sul link del mio articolo, e dargli un'occhiata, perché io scrivo gli articoli apposta, per descrivere i giochi, per informare le persone, e oltretutto lo aggiornerò, qualora dovessero aggiungere dei giochi bonus, concludo questo vlog, questo pseudo vlog, visto che manca il video, vi metterò un qualche gioco così a random, che non si adatta a un let's play, concludo quindi, sì, non perdiamo il filo, concludo dicendo, con un piccolo aneddoto di un tizio, con cui ho parlato di recente, purtroppo io mi ritrovo spesso a parlare con persone molto ignoranti, comunque vi esporto questa piccola chicca, che mi ha detto, se metti driver parallel lines sul pc, non sarà mai fluido come su ps2, manco con un aggiornamento, scusate se l'ho letto così, in maniera poco espressiva, però me l'ha scritto senza punteggiatura, ovviamente stavamo parlando della superiorità implicita del pc, rispetto alle console, ora, se tu mi fai un discorso del tipo, Dark Souls ha un port di merda, quindi su pc, non ti girerà mai fluido come ti può girare sulla Xbox 360, ora, io non lo so se con un pc della madonna, tu Dark Souls lo fai girare bene come dovrebbe, ma potrei anche capire, ma questo mi fa paragone con un gioco della Playstation 2, e, ok, magari è il port di merda, ma non mi puoi dire che il computer, un computer decente, di norma non ce la fa a far girare un gioco della generazione ps2, che non ce la fa a farlo girare in maniera almeno uguale, non dico migliore, perché migliore dipende da come è stato programmato, portato, se è nativo, se non è nativo, eccetera, eccetera, ma, almeno in maniera uguale, questo in condizioni di port ottimali, cioè, siamo fuori, c'è gente veramente che pensa che un computer sia meno potente di una ps2, quando già sfottano la ps4 per essere meno potente dei pc attuali, cosa che magari non è neanche vera, perché poi, vabbè, parlare di potenza è un discorso largo, non si può generalizzare così, questo è più potente, questo non è più potente, perché ogni macchina ha delle capacità di gestire, meglio determinate cose a discapito di altre, nell'ambito dei pc tutto questo è anche più complicato, perché dipende dalle singole componenti che hai, non esistono standard veri e propri, diciamo, ma insomma, era giusto un aneddoto per farvi capire l'ignoranza che c'è in giro, nel caso non lo sappiate già, e per quale motivo le console continuano a vendere così tanto, è chiaro, qual è il motivo, perché la gente dovrebbe pagare di più per avere qualcosa che fa meno, perché è ignorante, perché non lo sa, perché è convinta delle sue convinzioni, appunto, ma, oppure ha molti soldi da buttare, quindi, io a me non me ne frega niente di spendere meno, io mi compro la console, così metto il disco, gioco, sto là, e vaffanculo tutti, mentre col pc, poi c'è anche la, la, il pregiudizio dei pc, che sono qualcosa di difficile da, da gestire, da, da utilizzare per giocare, errori, conflitti di sistema, virus, tutte queste cose che, sì, esistevano, ma esistevano, ai tempi di Windows 98, io, onestamente, saranno, tipo, 5, 5, 10 anni, che, soprattutto da quando uso Steam, che non ho, problemi con i giochi, con queste cose qua, cioè, problemi intendo del tipo, che proprio non riesco neanche a farlo partire, perché il mercato dei videogiochi è andato incontro al videogiocatore, il videogioco si è, cioè, si è semplificato, insomma, non è, non è più come una volta che ti devi sbattere, e io l'ho vissuta l'epoca in cui i giochi spesso ti davano problemi, e quindi, capisco queste persone, però, ora non è più così, perlomeno, io, come persona, come videogiocatore, no, e come utente, attivo di computer, non ho più avuto, quella, valanga di problemi continui, che nascevano, conflitti, virus, anche virus, come fai a prendere un virus, oggigiorno, te lo vai a cercare, cerchi su Google, come prendere un virus, per favore, mi linkereste un virus, lo vai su Yahoo Answer, se te lo prendi, no, io, cioè, ce ne vuole per prendere, no, non dico che è impossibile, perché poi, chiaro, girano, soprattutto se ti vai a cercare, eh, ex estrani, crack, cose del genere, generale, ma, di norma, di base, il 90% dei virus, che il mio antivirus ha beccato, sono stati falsi positivi, addirittura giochi di Steam, che non sono virus, se su Steam vendessero virus, sarebbe un po' un problema, e basta, non lo so, la mia idea è quella, di prendere appunti, di possibili argomenti, durante la settimana, e poi trattarli, durante questo vlog, che potrei fare benissimo, il giovedì, ma, non so, se è una cosa, che farò regolarmente, non so, se funzionerà, se verrà seguita, comunque, prendetela, come una puntata pilota, vediamo, mi farete sapere, io, io sono qui, in cerca di feedback, sperimentazione, e, soprattutto al momento, ho tempo e modo, di farlo, se in futuro, non dovessi averlo, pazienza, interrompo, spiace, al momento posso, quindi, se siete arrivati, fino alla fine, di questo video, vi ringrazio, per avermi seguito, con più o meno attenzione, mi farete sapere, cosa ne pensate, di questo vlog, di ciò che ho detto, degli argomenti trattati, ci si vede, continuate a seguire i miei video, insomma, lasciatevi un like, iscrivetevi, al solito, bla bla bla, ciao a tutti, e, se ne vedete, 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 Grazie a tutti